Fissando lo sguardo su di lui. Gesù fissa lo sguardo su Simone. Proviamo anche solo per qualche istante a sentire su di noi gli occhi di Gesù. Proviamo ad avere il suo sguardo che si posa su di noi adesso, in questo preciso momento, in questa stagione della nostra vita. Uno sguardo attento, dolce, profondo, che dice una cosa, a mio parere, esaltante, che l'amore ci precede. Il Vangelo dello sguardo di Gesù su Pietro ci ricorda che all'inizio non c'è uno che decide, adesso faccio il discepolo, adesso faccio l'apostolo, sono sicuro di avere la vocazione. No, all'inizio sta il volto di Gesù che ti guarda, si posa su di te, non nel senso che ti fissa perché ti opprime, ti schiaccia, nemmeno nel senso di uno sguardo fugace, rapido di quelli che rimangono alla superficie delle cose. Gesù che fissa lo sguardo su Simone, su ciascuno di noi, su di me, su di te, non è dunque lo sguardo che controlla quanto sei meritevole, che sta a pesare quanta fede hai se sei a posto con la tua coscienza. È uno sguardo che abbraccia la tua vita in tutta la sua complessità, nella sua bellezza e con tutte le contraddizioni che ci abitano. Pietro lascia che lo sguardo di Gesù scenda nella sua anima, nella sua intimità, anche se ancora non sa dove questo sguardo lo condurrà. Ma all'inizio, prima ancora di decidere cosa fare, di programmare azioni e interventi, di progettare chissà cosa, c'è l'amore di Dio che si manifesta nello sguardo di Gesù. Ecco, Gesù non è venuto a dirci quello che noi possiamo fare, è venuto a dire quello che Dio vuole, può e fa con noi, dentro di noi, nella nostra vita. Ecco, sapremo reggere lo sguardo di Gesù o, come succede tante volte nella nostra vita, spostiamo rapidamente gli occhi su altre cose? Sapremo stare sotto questo sguardo?